Buongiorno e ben ritrovati a tutti cari telespettatori di Fano TV, oggi è martedì 14 marzo e questa è la rassegna stampa, occhio ai giornali tutte le mattine in diretta alle 7.30, poi in replica fino alle 8.30, alle 9.10 e alle 11 e alle 13.30, questi sono gli orari e poi naturalmente on demanda sul sito internet occhiolanotizia.it. Leggeremo tra poco i titoli delle notizie più importanti sui quotidiani Corriere Adriatico e il resto del Carlino. Adesso vediamo il santo del giorno invece, il santo di oggi è il beato Giacomo Cusmano, il sole è sorto alle 6.21 e tramonterà alle 18.13 Il tempo sarà buono per la giornata di oggi, le temperature sono ancora rigide al mattino presto intorno ai 3-4 gradi, almeno qui sulla costa, poi saliranno anche oggi, le massime saranno stazionario in lieve aumento. Per domani ancora bella giornata, una giornata di sole con temperature in lieve aumento nei valori minimi, senza variazioni invece quelle massime. Giovedì 16 ancora tempo e cielo sereno, con temperature in aumento in particolare nei valori massimi. Il tempo sarà buono ancora per tutta la settimana. La cronaca in primo piano, con la morte di un giovane padre di Mondolfo che si è schiantato con la sua automobili a Rimini. Allora andiamo subito sul resto del Carlino a vedere l'articolo. L'Alfa impazzita batte il lampione, muore a Rimini un giovane padre. Si tratta di Christian Venturi, 38 anni, padre di due figli, ancora piccole, residente a Mondolfo. Lo schianto del veicolo ha fatto il rumore di un'esplosione, ha raccontato un testimone. Nell'affrontare una semicurva il veicolo ha iniziato a sbandare, spianando un segnale stradale ed un palo della luce. Sul posto ci sono andati subito i pompieri, la polizia municipale e un'ambulanza. I sanitari hanno anche tentato un miracolo che però purtroppo non c'è stato. E sotto il ricordo degli amici era innamorato pazzo dei figli, il 38enne di Mondolfo deceduto in Riviera. Christian Venturi, un padre innamorato della sua femminuccia di sette anni, del maschietto di tre. Ed è così che lo ricordano i suoi amici e anche Daniela Carloni, titolare del bar Bollicina a Ponterio di Mondolfo. Sempre su questa tragedia anche il Corriere Adriatico. Il titolo? Auto impazzita, schianto fatale. Giovane padre muore a Rimini. Christian Venturi, 38 anni, carpentieri di Mondolfo. Lascia due figli. Soccorsi tempestivi ma inutili. Si dirigeva verso il lungomare ad alta velocità quando ha perso il controllo dell'Alfa 156. Tutto è avvenuto domenica alle 23 in uno schianto a Miramare di Rimini. Guardate l'auto del giovane, davvero quasi completamente distrutta. Bufera, così era chiamato, era un grande lavoratore. Ci mancherà dolore e cordoglio dagli ex colleghi. La comunità adesso è sotto shock. Torniamo sul resto del carino perché c'è un altro incidente che ha avuto un epilogo drammatico. La morte di un uomo, di un'altra persona che è stato prima ricoverato, poi dimesso dall'ospedale. Dopo l'incidente Babbo stava male, racconta il figlio. Era il caso di dimetterlo così presto. Venerdì il fuoristrada, ieri il decesso. I parenti adesso chiedono che si faccia l'autopsia. Il figlio Samuele dice era stanco mio padre, chiedeva l'ossigeno per respirare. I medici ci hanno detto che bastava però farlo riposare. Lo schianto e la dinamica aveva sbandato perché si era spaventato dopo che aveva visto un furgone che arrivava ad alta velocità. La vittima è Learco Cassiani che lascia tre figli e la moglie. A sinistra invece vedete l'ospedale San Salvatore dove era ricoverato. C'è stato invece un funerale ieri a Fano, a Sant'Orso, nella chiesa di Santa Maria Goretti, il funerale di Morris Furlani, l'operaio che è deceduto dopo essere caduto dal tetto della fabbrica dove lavorava. Il titolo sulla pagina di Fano, il nostro cuore se ne è andato con te, folla per l'addio all'operaio della Profilglas, deceduto precipitando dal tetto. Ieri l'azienda, la Profilglas appunto di Bellocchi, in segno di lutto e per consentire chi avesse voluto di partecipare ai funerali ha fermato anche gli impianti. Ieri tra l'altro nel nostro servizio abbiamo detto che non c'era nessuno dell'azienda ma in realtà c'erano alcuni dirigenti, c'era anche la titolare, c'erano e come quelli della Profilglas e quindi abbiamo detto una inesattezza per la quale chiediamo naturalmente scusa all'azienda e chiediamo scusa anche a voi telespettatori. Questa è la pagina del resto del Carlino di Fano. Sul funerale di Morris, la pagina invece del Corriere Adriatico, l'addio a Morris, una parte di te che resterà sempre nei nostri cuori, il pensiero degli amici per la vittima del lavoro, la morte per la caduta dal tetto della Profilglas distrutti dal dolore, i genitori, il padre gli aveva trasmesso le competenze di Fabbro. E questo è un momento, vedete, delle esequie con il parroco, il sacerdote che incensa la bara. Mentre sopra i Panthers, i tifosi del Fano Calcio, domenica gli hanno dedicato uno striscione allo stadio Mancini ed è stata intonata anche la canzone A te di Giovanotti. Ancora sui quotidiani di questa mattina, torniamo sulle pagine di Fano, la pagina 19 all'aeroporto, clima di veleni minacce all'aeroporto, avvertimento al comandante Belli, mi hanno detto di stare attento a volare a Fano, l'ho presa come una butade, Gianluca Santorelli ha denunciato una intimidazione per una cartuccia da caccia ritrovata sul cofono dell'auto, nulla di fatto dalle indagini. Eccola qua, la cartuccia sul tettuccio, mi pare, non sia proprio sul cofono, sul tettuccio dell'automobile appunto dell'ex presidente Santorelli. La banda del buco svaliggia una tabaccheria nella notte, un nuovo furto all'esercizio di Santorso, i ladri passano dal locale attiguo. In realtà non so se questo si tratti del locale di Santorso oppure quello del Vallato, comunque, vabbè, questo è il titolo, questa è la notizia riportata sul Corriere Adriatico. Allora, andiamo sulla pagina, sull'altra pagina di Fano per farvi vedere quella che è la fotografia prima classificata scattata al Carnevale di Fano da Sandro Cristallini di Riccione. Ecco la foto più bella del Carnevale, 120 fotografi, 120 autori hanno consegnato le loro fotografie a Uliano Lucas, il grande fotografo milanese che ha quindi diretto i lavori di giuria e analizzato appunto queste immagini di tutti questi 120 fotografi che nelle tre domeniche si sono cimentati e hanno realizzato gli scatti del Carnevale di Fano e hanno partecipato a questo concorso. A vincere è stato appunto Sandro Cristallini di Riccione con questa bella fotografia pubblicata questa mattina sul giornale. Allora, sulla pagina della Valle del Cesano invece, la notizia ancora cronaca con un'altra spaccata, questa volta i ladri hanno preso di mira il centro ottico di Monteporzio, razzia di occhiali da sole, la vetrina sfondata con una mazza, bottino da 10.000 euro. Lo sconforto del titolare che dice è difficile continuare due furti così in un anno, sono troppi. Il furto è avvenuto domenica intorno alle 23.00. E ancora sul Corriere Adriatimo andiamo a Senigallia, perché il 3 maggio del 2014, tutti ricordano quella drammatica alluvione dove morirono tre persone, ebbene è chiusa, è stata chiusa l'inchiesta su questa alluvione, 11 persone, soprattutto pubblici ufficiali, sotto inchiesta per questa tragedia. Tragedia che costò 180 milioni di euro, 5.000 case allagate, 1.500 alluvionati, 5.000 tonnellate di rifiuti, 13 milioni di metri cubi d'acqua, scese, pensate, in sole sei ore. Nel mirino la gestione dell'emergenza e lavori sul corso del fiume, tra cui il percorrimisa. I legali dicono ci interessa solo fare avere il giusto risarcimento agli alluvionati. E poi da Pesaro, invece, finalmente riapre il Tribunale dopo l'incendio del 30 dicembre 2016. È una bonifica da grandi numeri, perché 14.000 faldoni sono stati ripuliti e bonificati, a uno a uno 1.400.000 euro di spesa per la decontaminazione. È stato impiegato anche un drone. Il magistrato Cecchi dice che il Tribunale adesso è più bello di prima. Mentre il Sindaco Ricci, il Sindaco di Pesaro, il Presidente del Tribunale Perfetti, dice un lavoro esempio di collaborazione virtuosa tra gli enti e le istituzioni. Questa è la pagina di Pesaro. Adesso andiamo a Vallefoglia, perché sono state consegnate tre apparecchiature per il campo da calcio e gli impianti sportivi. Il Sindaco Ucchielli parla di un importante strumento di prevenzione. E poi, ancora nei quotidiani, dopo la tragedia del ponte sull'A14, in provincia di Pesaro Urbino, scatta la task force per controllare tutti i ponti che appunto ci sono nella provincia pesarese. Ponti e viadotti scattano i controlli, provincia mette in pieno una task force. Il Presidente Tagliolini dice ispezioneremo tutte le opere di nostra competenza sul territorio. Pensate, sono 440 quelle da controllare. Presentato anche il piano di investimenti per la manutenzione delle strade del Monte Feltro, sono stati stanziati 1.300.000 euro di lavori che inizieranno tra aprile e maggio. E questa è un'importante notizia, perché le strade, adesso andiamo a vedere il resto del Carlino, su questo argomento anche, le strade del Monte Feltro sono veramente un colabrodo, ma come tutte le altre, non solo quelle del Monte Feltro. Si cancelleranno comunque le buche del Monte Feltro, questo è il titolo, la provincia ha trovato appunto 1.300.000 euro al via, i controlli anche sui ponti. Poi parlano il Sindaco di Frontino e quello di Carpegna. Andrea Spagna, Sindaco di Frontino, dice siamo contenti che ci abbiano dato risposte concrete, il 90% del flusso turistico passa nel Conca. Mentre Angelo Francioni, che è il Sindaco di Carpegna, aggiunge, siamo sempre stati pubblicizzati per il cinismo grazie a Pantani, scusate, il ciclismo grazie a Pantani, ma quando vedono le nostre strade effettivamente fuggono tutti. E questa è una realtà, è un dato di fatto. Poi a Fonte Corniale invece c'è stata una brutta avventura per un 35enne, la cui identità non è stata resa nota, perché stava girando per i boschi di Fonte Corniale, a un certo punto si è perso dopo aver percorso la strada della Bianca, sono andati a prenderlo i pompieri. E poi la pagina di Fano invece del resto del carino, per chiudere ex ferrovia, parlano di recupero, intanto però la smantellano, 30 metri già divelti nei pressi del Codma, insorge il comitato. Ci sono polemiche, una mozione regionale promuove la valorizzazione della tratta a fini turistici, in realtà poi qui piano piano, zitti zitti, insomma questa vecchia ferrovia, che lo ricordiamo non è più attiva da un sacco di tempo, viene smantellata appunto a pezzi. A Pesaro invece, ecco l'ultima pagina davvero, dal Corriere Adriatico, giù le mani dalle Tamerici, questi alberi che si trovano sul lungomare di Viale Trieste, appunto a Pesaro, interventi e lavori, la zona mare è in fermento e c'è già il primo appello stagionale. Le piante di Viale Trieste non vanno potate, questa è la richiesta dall'asta di Siamo Pesaro al Comune. Allora noi ci fermiamo qui per quanto riguarda la prima parte informativa della nostra giornata, quella che apre di fatto in diretta la giornata, il nuovo giorno di Fano TV, la rassegna stampa. Ci fermiamo qui, stasera invece alle 20.30 c'è il telegiornale Occhio alla Notizia, dunque vi aspettiamo per darvi conto di tutte le notizie che ci sono qui nella nostra provincia, vi auguro una buona giornata e vi ricordo che il 338 4968 250 è sempre a vostra disposizione per le segnalazioni che potete fare attraverso WhatsApp. A voi tutti l'augurio dunque di una buona giornata. a voi tutti l'augurio dunque di una buona giornata.